Una bella novità per il canile EMPA e i suoi seguaci, possiamo dire così, perché dal 27 aprile ci sarà la possibilità di ascoltare i podcast sulla storia di questo canile direttamente su Spotify. Esattamente, le volontarie EMPA, Lucia Giannerini, in primis è veramente un vulcano di dei, quindi avremo questi quattro primi incontri ogni giovedì su Spotify, come hai detto te, e saranno delle storie bellissime da ascoltare sulla vita del canile e su come è nato questo canile, quindi sintonizzatevi ed ascoltateci. Elisa, allora, dacci l'indirizzo, il link su Spotify. Allora, dovete andare sulla piattaforma di Spotify, digitare EMPAREZO PEDCAST e dal 27 di aprile troverete la prima puntata dei nostri podcast, perché l'abbiamo nominato così. La prima puntata parlerà appunto di l'adozione consapevole in canile, do un piccolo spoiler, e ci saranno vari altri episodi che parleranno di EMPA, di canile, e questa è solo la prima stagione. Poi ne vedremo delle belle. Ne sentirete delle belle.